Il progetto Alpgrids vuole studiare ed implementare i concetti di comunità energetica e microrete nelle regioni alpine. Su queste tematiche l'Università di Genova ha sviluppato in questi ultimi anni numerosi progetti, in particolare al campus di Savona abbiamo realizzato nel 2014 una microrete poligenerativa e nel 2017 un edificio sostenibile connesso alla microrete. Una microrete è costituita da un insieme di sistemi di produzione di energia elettrica e termica, sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e consumatori di energia, quindi edifici che richiedono un fabbisogno elettrico, termico e di raffrescamento. Il progetto Alpgrids è incentrato sostanzialmente sullo studio di distretti urbani intelligenti, comunità energetiche e microreti. In questo contesto gruppi infatti di consumatori si possono unire, siano essenti pubblici o privati cittadini, aziende, attività commerciale per partecipare attivamente al mercato dell'energia in tutte le sue fasi, dalla produzione al consumo e allo scambio di energia. Nell'ambito del progetto europeo Alpgrids, IRE Liguria e Università di Genova presentano un progetto per l'ampliamento del campus di Savona, ipotizzando un nuovo distretto urbano ispirato al modello dei Positive Energy District, ossia quartieri all'interno dei quali i fabbisogni degli edifici dal punto di vista della climatizzazione, invernale, estiva, i fabbisogni elettrici per usi generali e i fabbisogni per la mobilità, vengono completamente coperti dall'autoproduzione che viene realizzata in loco attraverso generatori da fonte rinnovabile oppure ad alto rendimento. Il progetto riguarda sostanzialmente la riqualificazione dello stadio Baccicalupo e l'idea è quella di installare sulla copertura delle tribune, dove ovviamente c'è una superficie molto ampia, una centrale fotovoltaica. Questa centrale potrebbe anche servire dei nuovi edifici come uno studentato e un'altra zona di vita ad usi sportivi limitrofa allo stadio Baccicalupo. Unige all'interno del progetto intende studiare le principali configurazioni di microrete e comunità energetica ed applicarle nel quartiere di Leggino della città di Savona. IRE da sempre supporta Regione Liguria nello sviluppo delle sue politiche energetiche e le comunità energetiche rappresentano un'occasione importante per le amministrazioni pubbliche per coinvolgere cittadini ed imprese nella realizzazione delle proprie politiche energetiche locali.